Musica Io ogni giorno per colazione mangio 3 biscotti e latte Ci iniziamo a preparare per andare a scuola Non ci vuole assolutamente un lavaggio faccia perché sennò non eseguirò mai E' definito molto molto la maggioraccia è fatta e mi vado a vestire vestiti mei sia e ora lo devo aspettare a spazioare ok ho fatto tutto e andiamo a scuola a dopo andiamo in macchina e fuori c'è un freddo e quindi tutto il sedile è riscaldato oggi a scuola mi aspettano due ore di geometria e due ore di motoria poi farò due rette di compiti e andrò in palestra ciao papi ciao mamma arrivata da scuola e ora faccio la merenda che è un panino alla marmellata che così mi dà carica per le tre ore di palestra come tutti i giorni ora vado in palestra ci vediamo dopo ciao ciao brava brava abbiamo finito allenamento e ora andiamo a casa ciao ciao ci siamo conosciuto grazie alla ginnastica e siamo diventati migliore amiche ok stiamo spesso insieme e ora andiamo a divertirci ciao ciao ti presento i miei animali è gatto che si chiama dalai che è il mio cane che si chiama joy allora ora giocheremo a questo gioco dove tu devi mettere questi io faccio prima lo faccio con le dita vedete così ora noi abbiamo l'intenzione di fare tutta l'astronave però perciò ci vediamo dopo ok l'avremo finita ciao finito mi piace è una bellissima astronave qua che stia un'astronave però non avevamo questi pezzi giusti e quindi è venuta sicuro però qua ci sono tutte le fiammette e qua è l'astronave e questo è il risultato ora ne faremo altri sicuro è meglio perché questo è il risultato di me ciao ciao ora facciamo le dita 3 3 3 3 3 4 4 5 ora facciamo il crystal ball eccolo qua io ti c'è la moda e poi ti c'è la palla molto io sono tutte le nostre blombe io sono tutte le nostre blombe allora ora vorremmo un po' disegnare e avevamo in mente delle cose ok e così ora le mettiamo insieme iniziamo ok iniziamo a lavorarci e l'evento è l'evento e l'evento e l'evento l'evento di sera è sempre pizza buon appetito tiriamo i miei denti per andare a dormire io ho due spazzolini perché però Greta ora che ci penso dovremo andare a dormire andiamo andiamo a dormire che domani ci aspettano 4 ore di allenamento se non volete perdere le nostre avventure dentro per la palestra lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao notte grazie 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 grazie